E rimaniamo sempre sul tema acquisti, ma introduciamo questa volta una innovativa figura, quella della curatrice, della consulente di immagine. Si tratta di Veronica Stili, che abbiamo avuto il piacere di conoscere ed apprezzarne il lavoro. Fautrice di immagine e look, Veronica Stili è riuscita a ridare consapevolezza del proprio corpo a diverse donne. Tutti i particolari per voi nell'intervista. Romina, tu sei la vincitrice del concorso Find Your Style ed hai vinto il training di consulenza e immagine con Veronica Stili. Mi ha dato una marcia in più, mi ha dato ancora di più la fiducia in me stessa. Prima di tutto ti diverti, prima di tutto ti rilassi, non devi pensare a questo accessorio piuttosto che all'altro, non devi niente, devi solo uscire, rilassarti e divertirti, perché Veronica Stili è spumeggiante. Sa tirar fuori da noi stesse quello che noi magari non vediamo neanche, sa farci brillare gli occhi, sa farci sentire donne.